Direi molto buona sia sull'aspetto di partecipazione sia anche nell'aspetto dei volontari. Si stanno pian piano risvegliando dopo un lungo, purtroppo, Covid che ha fatto sì di fermare tutto quanto l'aspetto turistico e organizzativo del mondo delle proloco. Nel mondo delle proloco bellunesi c'è più che mai voglia di ripartenza, di riassaporare quella socialità che il Covid per troppo tempo ci ha sottratto. A ribadirlo è il presidente delle 59 proloco bellunesi, Davide Pralloran, che seppur constatando il grande entusiasmo fra i volontari, tuttavia non nasconde qualche timore legato all'incertezza che caratterizza il contesto storico generale. È ricaduto anche nel mondo delle proloco, in primis ovviamente il costo dell'energia, di tutto quanto il materiale che serve per far organizzare una sagra, un evento. Chiaramente questo ci preoccupa perché c'è anche una carenza di materiale. Una situazione che a prima vista potrebbe apparire paradossale ma poi così tanto in realtà non lo è. Banalmente una posata, un piatto più stato che un bicchiere, oggi vanno a ruba e trovare e garantirsi lo stock di salvataggio per realizzare l'evento è un po' un'impresa. Il mondo del volontariato è dunque all'opera comunque per offrire a residenti e turisti un'estate di relax e divertimento all'insegna delle tradizioni e dei valori di sempre, anche se l'incognita legata alla risalita dei contagi inevitabilmente pesa. Crea l'incertezza e comunque una riflessione, ce la stiamo facendo un po' tutti, di organizzare gli eventi piccoli, fatti bene, cercando un attimino con un occhio di riguardo sempre di mantenere comunque la sobrietà nell'evento e quindi di cercare di proteggere un po' tutti quanti, sia i volontari ma anche il pubblico che viene ad alliettare la serata. Facendo fede alla propria mission di promozione e valorizzazione del contesto locale, le proloco bellunesi sono comunque pronte a nuove sfide. Il mio spizio è che le proloco e i volontari lavorino insieme, lavorino con serenità e con la voglia di fare come era nel 2019.